San Giovanni d'Achiti, brillante e intelligente. San Giovanni nacque a Chiti, Polonia, nel 1397. Uomo brillante e intelligente, diventò docente di filosofia a soli 26 anni. Aveva un amore smisurato per lo studio e per la vita religiosa. Dopo aver studiato teologia a 34 anni, ben ordinato presbitero. Dopo un periodo di vita consacrata presso la collegiata di San Floriano a Cracovia, in questa città riprese a insegnare presso l'università. Lo stimatissimo professore non insegnava soltanto con le parole, ma educava con le azioni. Visitava i poveri nelle case popolari, aiutava i suoi studenti con il suo misero stipendio, spesso privandosi dei beni di prima necessità. Soprattutto era sempre mite, aveva un buon carattere e non si arrabbiava mai. Fece moltissimi pellegrinaggi a piedi, ben quattro a Roma. Si narra che durante una di questi un gruppo di briganti assalì lui e i suoi compagni di viaggio. Egli, accorgendosi di avere degli spiccioli in tasca, richiamò i ladri in fuga per consegnarglieli. I briganti, quindi commosso dal gesto, restituirono tutti il bottino. Morì a 83 anni durante la messa della vigilia di Natale del 1473. Fu canonizzato nel 1767 e il suo nome viene ricordato il 20 ottobre in Polonia e nel resto del mondo cristiano il 23 dicembre, nella data più vicina alla sua morte. All'ode di Dio.